Alla presenza dell'onorevole Semeraro, componente il nuovo ministero Fanfani, un grosso lotto di case popolari è stato consegnato ai nuovi assegnatari. Cerimonia semplicissima, le nuove chiavi passano di mano, un augurio e domani sarà un giorno migliore. La visita agli edifici permette di considerare il notevole impegno dell'opera che ha arricchito la città di Taranto di un nuovo quartiere. Case popolari è vero, ma adatte ad accogliere con piena soddisfazione gli abitanti, prima confinati in locali malsani e pericolanti. Costruire molto e costruire con criterio, a Taranto si è fatto un grosso passo in avanti.